L'inverno del 1933 fu particolarmente lungo e rigido, e non solo da un punto di vista climatico. Nei pochi mesi che vanno dal novembre 1932 fino all'aprile successivo accadero una serie di avvenimenti destinati a segnare il destino del mondo. Hitler arrivò al potere in Germania. Il Giappone inviò le sue truppe al di là della grande muraglia cinese. Mussolini puntò a sud, verso il corno d'Africa. Roosevelt accentuò l'isolazionismo degli Stati Uniti nei confronti dell'Europa. La Gran Bretagna si ritirò nelle zone sicure del suo impero. La Francia cambiò tre governi. Ovunque si stavano alzando muri. La grande conferenza mondiale programmata per affrontare la gravissima crisi economica si rivelò un fallimento totale e anzi le tre potenze occidentali litigarono aspramente per i debiti di guerra, gli armamenti, la moneta, le tariffe daziarie e la questione della Germania. Alla fine di quel lungo inverno il mondo post bellico diventò un mondo pre bellico, intrecciando storie e vicende di tutto il mondo, un racconto appassionante che è anche un ammonimento per tutti noi.